Ma a chi doveva esserci al posto di Margot Robbie e Ryan Gosling nei film di Barbie? Che la pellicola ha fatto un successo allucinante, dato i numeri che è arrivata ad avere, le persone sono molto curiose di sapere chi era in Leeds per l'interpretazione di questi personaggi ed oggi ne andremo un po' a parlare. Ciao, sono Captain Nerd, bentornati su Chuck e Azione. Dunque siamo nel lontano 2014 e la nostra Sony tenta di accaparrarsi l'attrice Gal Gadot per l'interpretazione di Barbie. La cosa però non va a buon fine perché lei aveva vari impegni con altre produzioni, eccetera. Quindi qualche anno dopo tentano di prendersi Hamish Shower, che tra l'altro non mi piace neanche più di tanto, è veramente orrenda nei fanni di Barbie e molte riviste hanno ammesso che comunque aveva poco femminismo ed era poco cool. In ogni caso anche lei dice che a causa di varie produzioni non può prendersi questo impegno. Poco più avanti si tenta con Anne Hathaway, la bellissima attrice che ha interpretato anche Catwoman nella trilogia del Cavaliere Oscuro di Nolan, ma anche lei per lo stesso motivo rinuncia. Negli anni a venire i diritti della Mattel scaderono e quindi tutto passò in mano alla Warner Bros. che diede il ruolo della nostra bambolina più famosa del mondo a Margot Robbie. Cosa buona e giusta, perché ci sta veramente tantissimo. Fu affidata alla regia e alla sceneggiatura a Greta Gerwig e niente, quello che ne è venuto fuori è questo bellissimo film di una scenografia pazzesca con un'interpretazione favolosa. Ma chi altro è stato a rendere tutto questo fantastico? Il nostro Ryan Gosling. L'attore non ha avuto grandissimi rivali per l'interpretazione di questo personaggio perché fu subito stato scelto per la sua bellezza, la sua recitazione e tutto il resto. Forse gli fu dato un piccolo pretesto, nel senso che era troppo vecchio per interpretare un Ken, aveva troppi anni. Però nessuno se ne è accorto, potete anche vederlo dal film. E tra l'altro questi due attori torneranno a recitare insieme nel prequel di Ocean's Eleven diretto da J. Roach, storia d'amore mascherata da crime ambientata nel 1962. Quindi avranno un altro lavoro insieme da fare. Comunque sono arrivato alla conclusione di questo video. Fatemi sapere se anche voi siete contenti che le scelte relative ai personaggi di Barbie e Ken siano state fatte con i controcazzi o meno. Fatemi sapere cosa ne pensate, se avreste preferito un altro attore al posto loro e quindi scrivetelo nei commenti così magari creiamo un po' di conversazione. In ogni caso seguiteci sui social, iscrivetevi al canale cliccando sulla campanella che è sempre una cosa importantissima e da Captain Nerd che oggi è tutto. E noi ci rivedremo presto in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!